Oggi riceverà il premio WeFree. Qual è stato in questi anni l'impegno di Banca Karim a fianco della comunità di San Patrignano? Banca Karim ha ereditato una funzione che noi consideriamo importante per la banca, cioè di attenzione alle ricadute sociali dell'attività economica e finanziaria. E l'ha enfatizzata principalmente con la introduzione di nuovi prodotti come per esempio il Social Bond. Il Social Bond è stato il primo con il quale abbiamo avuto relazione con San Patrignano. La possibilità di orientare verso prodotti socialmente utili, dei progetti socialmente utili, una parte dei proventi che la banca riceve dalle missioni di obbligazioni. Qual è invece l'impegno sempre di Banca Karim contro le ludopatie? Banca Karim ha organizzato e istituito un sito che si chiama www.nonazzardorimini.it nel quale raccoglie delle informazioni sia sulle testimonianze di chi è stato affetto da questo vizio sia alle informazioni che riguardano gli operatori sociali a cui rivolgersi quando ci si accorge che uno svago diventa per l'appunto un vizio. Questa attenzione è giustificata dalla circostanza che la provincia di Rimini presenta la maggiore concentrazione di sale scommesse di tutta l'Emilia Romagna. E per esempio questa percentuale di sale scommesse rispetto ad abitanti è doppia rispetto alla città di Ravenna. Non si spiega da un punto di vista di dislocazione geografica ma evidentemente di debolezza di fronte a questo pericolo.